Le istituzioni europee hanno risposto duramente alla vittoria del no nel referendum greco. A Bruxelles a prendere la parola per primo è stato Valdis Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione europea con la delega sull'euro. L'Europa è rimasta a fianco del popolo greco durante la crisi. I contribuenti europei hanno offerto un'assistenza finanziaria senza precedenti. Hanno sostenuto gli sforzi della Grecia di riformarsi affinché in futuro potessi andare avanti in modo indipendente senza aiuti. Ma le riforme sono state spesso ritardate o applicate solo in parte, provocando così una recessione prolungata e nuove difficili riforme da applicare. Sulla stessa linea il presidente dell'Eurogruppo, che si è espresso dall'AIA, spetterà proprio all'olandese Jeroen Dijsselbloem riprendere le fila di un dialogo ormai molto teso. Al di là del risultato del referendum, sono necessarie misure difficili, altrimenti il paese non ce la farà, il funzionamento dell'amministrazione non migliorerà e l'economia non si riprenderà. E se il governo e il popolo respingono queste misure difficili, allora la situazione si fa veramente difficile. I ministri delle finanze della zona euro si riuniranno questo martedì e senza il controverso ministro greco Varoufakis, subito dopo in serata ci sarà un vertice europeo straordinario dei capi di Stato e di Governo della zona euro.